Dopo quattro turni si ferma la striscia positiva della femminile Rimini che inciampa 2-1 contro il consolata tra le muramiche. La partita più importante è quella giocata all'ingresso delle squadre con una delegazione dell'associazione Rompi il Silenzio che ha accompagnato in campo le ragazze in cocomitanza con la giornata internazionale delle donne dell'8 marzo, per dire basta, a ogni forma di violenza sulle donne. La presidentessa della femminile Rimini, Sabrina Montebelli, per l'occasione ha consegnato anche un omaggio floreale alla presidentessa dell'associazione Rompi il Silenzio, Paola Gualano. La partita, lì si riabbraccia sesso dopo lungo infortunio, la giocatrice per precauzione si accomoda inizialmente in panchina. Zanni allora in campo prova a rompere l'equilibrio a quarto d'ora, ma alza la mira. Due minuti più tardi è la volta di Sara Fiumana che deposta il pallone sul fondo. Dotto tenta la sortita offensiva con un pallonetto, senza fortuna, mentre Fiumana prova all'esploat dalla distanza. C'è potenza, ma non precisione. Ci prova anche la gemella Sara, ma in Rimini non riesce a sbloccare la gara. Capolongo dall'altra parte suggerisce invece per Zanni, ma quest'ultima mette alto, mentre a quarantesimo Dotto sfiora la marcatura, recando più di un brivido all'attenta Claudia Lisi. In avvio di ripresa, equilibrio spezzato da Zanni che sulla bacchetta preme il pulsante diagonale preciso sulla quale Claudia Lisi non può far davvero nulla. A 67esimo arriva il doppio ospite, dalla bacchetta alla magia, vera e propria quando Capolungo confeziona un aerogol da 25 metri che ammutulisce i neri, ma non l'applauso dovuto alla marcatura che rimane certamente eccezionale. Esther Protti prova allora a scuotere le compagne con un calcio piazzato che crea qualche grattacapo alla retroguardia ospite, mentre 60 secondi più tardi cerca l'aerogol Zanni, ma Lisi protegge la propria porta. A un quarto d'ora dal termine, Sara Mi Pace riapre i giochi, brava a credici e a risolvere una situazione complicata, trovando la terza marcatura in stagione. Finale a vincente con un traversore di Fiumana non raccolto né da Tamburini né da Pace. È la volta di Spano, ma la sua determinazione non corrisponde alla precisione, mentre Zanni in area avversaria sfiora il trice dall'altra parte. Domenica si torna in campo, l'avversaria di turno per le bianco-rosse allenate da Zeno Lisi sarà la junior Fiorano.